Ehi, tu che guardi il look? In questo video ci saranno 4 emoji, 1, 2, 3 e 4. Guarda tutto quanto il video bene e scrivi qui sotto nei commenti il minutaggio dove le trovate, per farti mettere il cuoricino da me. Buona visione! Un saluto il mio show, oggi signori c'è un eco assurda! Però sono con Leonardo, signori siamo qui davanti su Fortnite e adesso signori c'è un eco assurdo però andremo a giocare a Fortnite con Leonardo. Vi ricordo che anche Leonardo ha il suo canale YouTube quindi mi raccomando veloce a seguire, vi lascio il canale qui sotto in descrizione, mi raccomando veloce a seguire. Iscrivetevi anche al mio canale, mi raccomando lasciate like, iscrivetevi al commentino e possiamo partire, buona visione! Ok signori siamo riusciti a rimuovere l'eco a Leonardo, oggi signori si fa una roba assurda, si fa rientro con Leonardo, signori. Vi ricordate l'ultima volta com'è andata? Io sì, è andata molto bene. Allora dove ci buttiamo signor avvocato? Scegli bene, scegli bene perché sennò manca cacchio. Bravo, 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 bravo. Sei stato molto bravo. Oh cavolo, ma la busta è già... Oh no! No, ma perché i pinga... Perché i pinga... Non sei stato bravo. Non sei stato per niente bravo. È perché i pinga ad un posto che era vicinissimo. Io mi stavo mettendo a fare il video sulla mappa, sulle cose e mi sono perso il... Tutto quanto il loot, l'immor... Scusa. Vabbè, fa niente, fa niente, dai. Allora ragazzi, scendiamo subitissimo. Scendiamo così veloci, dai, veloci, veloci. Uh, io scendo qua e c'è una bella cest. C'è una bella cest. Uh, anche una cesta leggendaria. C'è una cesta leggendaria. Ma male che mi sono salvato. Mi sei salvato da cosa? Dalla caduta con l'acqua? No, perché mi sono salvato dalle persone che mi stavano sparando. Ah, ok. Quindi adesso... Cioè, guarda cosa c'ho. Guarda... Non te la via, eh. Guarda cosa c'ho. Eh, quella è bellissima. Questa è bellissima, Ria. Vedo scelobinio dal vanno, dalla tua condivisione. Ok, no! Ci sono... Ci sparano, ci sparano, ci sparano. Ma io c'ho la mitraetta leggendaria. Vado! No! I colpi, i colpi, i colpi! Mori! Brutto Bastiani, ci mori! Sì! E te ridi, te ridi! Cosa ridi? Che? Cosa ridi? Eh! Uh! Ragazzi, iscrivetevi tutti al canale di Luca. Grazie, grazie, Leonardo. Sei molto gentile. Facciamoli salire di iscritti. Perché Luca è veramente una persona fantastica. Quindi iscrivetevi tutti. Madonna, ma che confidenza, Leonardo. Ma grazie. Sei... Sei molto gentile. Non ho mai... Nessuno mi ha detto queste cose. Oh, ma è quelle costruzioni! Oddio, la modalità è quelle costruzioni. Non ci sono giocato con le costruzioni. No, ragazzi. È una cosa assurda. Che non ho detto nel tuo video, che è una cosa bella. Non andate mai in altri canali, ma andate in un unico canale, che è quello di Luca, che fa sempre belli contenuti. Quindi andate sempre bene. Belli contenuti! Molto... Un italiano molto perfetto, direi. Oddio! Sono forti e nudi. Allora, ci sono molte persone. Chi è? Ma perché mi hai distrutto il muro? Il muro! No, no, ci ho distrutto il muro. Sì, ci ho distrutto il muro con la pitaglietta. No, ragazzi. E... No, eh. Allora, stai diminuendo da bravo a bravino a... Non so descriverlo, guarda. Ognuno ha dato adesso che ho 32 di scudo. Ah, no, 22 di scudo, scusate. Quindi mi faccio questo bello shieldone. Così faccio 72 di scudo. L'altro me lo conservo, ragazzi. Ah, gli altri due. Oggi, ragazzi, non so leggere. Non so leggere per niente, guarda. Allora. Uh, ci sono persone. Persone, persona qua, persona qua, persona qua. Però com'è qua? Da me, da me. Da te? Vengo subito. Sì, da me, da me. Ok, ragazzi. Oddio! Dov'è? Dov'è, bastiani? Ci fatti vedere! Fatti vedere! No, ragazzi, non si fa vedere questo. Questo non si fa vedere. Eccolo! Eccoli! Eccoli! No! E niente, signor... ANONIMO! Porco demonio! Luca! Ma porco demonio ho detto, mica porco... Quello non si dice. No! Quello è meglio che lo lasciamo da un'altra parte, guarda. Non porconiamo niente, guarda. Ma tu, ci sono la mitretta leggendaria. La mitretta leggendaria. Me l'hanno tolta! Me l'hanno tolta! Me l'hanno tolta! T'ho cacciolato questo! T'ho cacciolato questo! Mo' mi cacciolo pure questo! Tchè! Valà! C'è lì! Grazie! 50 di scudo! Ok, ok, ok... Questi ci possono servire. Mi calmo un attimo, ragazzi, perché... L'urro di prima mi ha... Mi ha veramente... Rorto la gola. E quello ride. Questo ride. Questo ride. Capito? Io c'ho la gola rotta... E questo qua ride. Tiè, ti c'ho tutto così almeno... No, vabbè, ti do questo... Ti do questo... Mi faccio questo io. Bravo, Luca. Bravo. Eh, grazie. Allora, questo fucile d'assalto martello... Mi dicono che è molto buono. Quindi... Non lo so, lo proviamo. Secondo te è buono, Leo? Oddio! Chi è? Da me! Da te? Vado al massimo! Eccolo! Eh, bravo. Fatelo, te! No! Io me ne sto andando. La gola, la gola, la gola, la gola! Parco de manio! Vieni, ma ne sta, vieni, ma ne sta. Bravo, bravo, grandissimo! Vieni, ma ne sta! Sto venendo io da te. Vengo io da te. Eccolo. Oh, attenzione. Io non ho fatto manco una... Ho fatto solamente una kill, ragazzi, eh. Ho fatto solamente una kill. Questa me ne ha fatte 300. È vero, ne ho fatte 3. Eh, ma... Eh, 3? 300? Sono numeri molto simili. Amico mio. Ma, fatemi curare. No, no! Oh, no, 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 no. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Ma io me ne frego, me ne frego, me ne frego. Salto e me ne frego. Finito. Ammazzato. No, l'ha ammazzato lui. L'ha ammazzato lui. L'ha ammazzato Leo. Ragazzi, ma col merito me da... Ma ti rompio la scrivania, guarda. Ma ti rompio la scrivania che faccio volare tutte quante le cose per l'aria, guarda. Eh, l'abbiamo perso. L'abbiamo perso. Vabbè. Vabbè, ragazzi, ne facciamo un'altra, che devo dire. Ok, signori, lascerò scegliere sempre a Leonardo dove andare a buttarci. Signor Leonardo, signor avvocato mio, scelga dove dobbiamo andare. Perfetto. Sempre lì? Sì. Ok. Scendiamo. Che laggata che mi ha tirato, raga. Che laggata che mi ha tirato. Che laggata che mi ha tirato. Ma voi non potete neanche capire. Allora. Scendiamo. Io scendo in piscina. Ah, no. Non c'è niente in piscina. Quindi scendo qua nella casa bella. Mi prendo un bel pompa, il pompa. La pompa del nonno, voglia. Faccio uno. Faccio lo scudo e mi faccio 50 di scudo. Bravo, bravo, bravo. Dov'è? Dov'è il Bastianich? Oh, c'è un'altra pompa? Non è uguale? Ci sono delle casse. Ah, il lagg, il lagg, il lagg. Ragazzi, io devo cambiare subitissimo computer. Guarda. Ecco perché devo cambiare computer. Perché mi va il lagg. Scatti super scattoso, signori. Allora, ok. Ti seguo. Uh, questo è bello. Perché l'hai buttato? È molto, molto bello. Allora. Allora. Ora che abbiamo preso le armi. Dove andiamo? Potremmo andare... Uh, questo è bello. Questo è bello e buono. Questo fa un botto di danno, ragazzi. Ok, persona. Vai, vai. Sparami, forza. Ah! No, ragazzi, non potete capire. No! Luca! È che vuoi! No, vabbè, ragazzi. Ma si può! Oh, l'avevo craccato! Porco demonio! Dimmi! Stai tirando dei bestemmioni che non sai. Ma porco demonio non è un bestemmione. Ah, è buono. Buono, 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 buono. Tutto il luto mi vio. Ah! Ragazzi! No, non è possibile. Ok, bravo, bravo, bravo. Bravo, Leo. Ci facciamo un bel medico. Leo, non ti permetterai mai più che mi sei fatto mettere la paura. Vaffanbagno, guarda. Uh! Guarda che bel fucile che me so trovato. Guarda che bel fucile. Ok, sto andando da te. Sto andando da te. Ok, shieldini molto buoni, molto buoni questi. Molto buoni sono questi. Allora, ragazzi, potete sapere che questa parte qua la stiamo registrando il giorno dopo alla prima parte perché non potevamo più registrare. Quindi io mi sono appena svegliato. Signori, oddio, eccolo! Eccolo! Dove sei? Eccolo! Entra! 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 Non entra! Non penso proprio! Beccati sto segno! Beccati sto trapezio! Entra! E sta qua! Sta qua! Mi sta facendo il supermotivo di colpi sto Bastianich! Sta qua! Dai, esci! Faccio uno! Grande! Uh, guarda che ce l'ha questo! Questa è buona, questa è buona, questa è buona! Entra! Ah! Luca! Mo ti rompe un bestemmione e lo bippo, guarda! Mo ti rompe un bestemmione e lo bippo! Porco demonio! Dai, raga, ma come cavolo si fa? Ok, 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 ok! Allora, prendo questa! Oddio! No, pericà! No, pericà! No, pericà! Basta! You said the m***a! Basta! Io me ne sto andando! Eh, anche io, anche io, guarda! Anch'io me ne sto andando perché mi sto dissociando da quello che dico, guarda! Mi sto dissociando altamente, guarda! No, regà, ma... Luca, ma tu quanti kill tieni? Domanda! Quanti PC tengo? No, quante kill hai, tu? Ah! Eh... Facciamo e te lo dico un'altra volta, dai! Io tengo 6 kill, è la bellezza, però! 6 kill? Sì! E la malattosca! La prossima me lo faccio io! Lo voglio fare io! Faccio uno! La prossima me lo faccio io! Eccolo! Non te lo farei due, mi raccomando! Oh, mi è arrivato un colpo in bocca, mi è arrivato! La f***! Magliare! 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 È Luca e sto cacchio! Ma mi uscirono 350.000 volte! Guarda, 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 guarda! Che atterraggio de' schifo! Che atterraggio de' schifo! Intanto, intanto, tenevo 8 kill. E di qua, vabbè! Eh, meno male che tenevi 8 kill! Meno male! No, vabbè, ragazzi, vabbè! Noi concludiamo il video qua! Mi raccomando, stare load fa schifissimo! Non giocateci mai perché fa schifissimo! Ci sono solamente pro e non riuscite mai a essere di livello! Mi raccomando, non giocateci perché... Io vi saluto, Luca vi saluta, Leo vi saluta, saluta Leo! Bella! E ci vediamo nel prossimo video! A gente!